Smaltiva illecitamente gli scarti della lavorazione delle coltivazioni di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma su un fondo agricolo incolto di circa 10.000 metri quadrati posto a ridosso di un canale consortile dando origine ad un diffuso fenomeno di inquinamento oltre ad interessare il terreno e la falda freatica comprometteva anche le acque del canale consortile del consorzio destra sele per questi motivi è stato denunciato un imprenditore della piana del sele è l'esito di un'importante operazione a tutela dell'ambiente portata a termine nei giorni scorsi dal personale del nucleo carabinieri forestale di foci sele dal personale del nucleo provinciale guardie ambientali accademia cronos l'attività investigativa dopo alcuni giorni di indagine ha consentito di accertare che il titolare di una nota azienda agricola della piana del sele e dedita alla coltivazione di prodotti freschi che subiscono una prima selezione semplice pulizia e confezionamento da tempo smaltiva illecitamente gli scarti della lavorazione delle sue coltivazioni su un fondo agricolo incolto trasformando l'area in una vera e propria discarica sono stati militari del nucleo carabinieri forestale di foci sele il personale tecnico del nucleo guardie giurate ambientali accademia cronos giunti sul posto dopo un'accurata attività ispettiva ad identificare il responsabile dell'inquinamento prodotto da scarti vegetali e ad acquisire le necessarie fonti di prova indispensabili a poter procedere al sequestro di una vasta area di terreno incolto dove oltre alla presenza di residui vegetali come rucola e radicchio gli agenti hanno avuto modo di accertare e documentare fotograficamente la presenza di percolato prodotto in seguito ai fenomeni di marcescenza che grazie ad un fosso canale appositamente realizzato ruscellava sino a raggiungere le acque del canale consortile più a valle il mare al termine dell'attività ispettiva i militari preso atto dell'assenza di idonee strutture destinate allo stoccaggio dei rifiuti vegetali nonché della documentazione prevista dal testo unico ambientale hanno sequestrato l'area denunciando a piede libero l'imprenditore per i reati di danneggiamento e distruzione di bellezze naturali in quanto l'area risultava sottoposta a speciali forme di tutela per aver rilecitamente smaltito su suolo e nelle acque del canale consortile ingenti quantitativi di percolato provenienti dai fenomeni di marcescenza dei rifiuti vegetali ed aver realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi di origine agricola su un suolo incolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti